Ciao a tutti, ciao a tutti, con la zeta, con la zeta, guarda la zeta che bellina di... So, come serie delle sette, dato che... Allora, stavo pensando magari di tornare a fare un po' di Minecraft PvP, quindi dei video sempre durati a 10 minuti, perché come vi ho già spiegato nel video di Minecraft Ita, durante il periodo scolastico di più non riesco a fare, e... anche se ora siamo all'inizio, ma comunque mi stanno già in periodo dei compiti, quindi GG1-1 non è. Ehm, quindi, allora, video di 10-15 minuti, Minecraft PvP, magari qualche Hunger Games, ma gli Hunger Games no, che mi fanno abbastanza cagare, anche i Survivor Games, mi fanno abbastanza cagare, più serie PvP tipo, non sono un cazzo di prete, è l'ennesima volta, tipo, non so, Max Smash, Capture the Flag, cose così, no? Ok, iniziamo. Questi abbiamo già fatti, vero? Uh, all'am shake, all'am shake. I'm doing all'am shake. Molto bene. Scemo l'obesa, perché l'obesa secondo me fa un grande all'am shake. Fuck. Proviamo... Eh, sì, go, I Kai. I'm doing all'am shake. Non lo so fare, però. Ok, non è dubstep questo. È più... Scataro. Welcome to Spar... Sì. Oh, this is Sparta! Holy shit! Ok, come vi ho sfrut... Oh! LOL. Nel pene! Come ho già accennato qualche mese fa, io sono stato partecipe di uno scambio culturanale con l'Olanda. Io ho ospitato un'olandese a casa mia per una settimana e io ora dovrò andare dal 29 al 4 ottobre, eh... dal 29 settembre al 4 ottobre, in Olanda. E sto pensando di pre-registrarvi un po' di video, eh... giusto per non lasciarvi senza, dato che so che in periodo scolastico e molti di voi quando fanno i compiti vi piace guardare i video di Zuriel, anche se non è una cosa molto buona, sapete? Non devi guardare i video mentre fai i comp... No, scherzo, guardali pure. Falli! Fai i compiti! Però guarda anche i miei video. Guarda anche. E poi c'è ancora chi deve iniziare la scuola. Beh, a questi ultimi... Allora, Star Wars Matrix. Questo l'ho già provato, vero o no? Waaaa! Ah, ho un Inchia con il culo! Ho un... Come si chiama quel coso? Il kunai, no. Il kunai è quella di Naruto che fa così. Quello è il... Quella che ha le tartarughe ninja che fa... Più o meno. The start. Uuuuuh! Oh! Ha fatto cagare. Una stella e suca. Kill your wife. Ma no, perché uno dovrebbe ammazzare la propria moglie? Cioè, se uno... Se uno... Ehm... 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 sapete perchè sto facendo questo? perchè le cazzo di mani non scendono guarda guarda in giro è mortale sta puttun ok 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 glassy level io li amo i glassy level ok 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 con calma ok con calma aspetta 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 vediamo tante di quelle in corsa perchè sembro devo andare a tagliare i capelli ok basta please let me do this let ciuffa stassino ma mi stai prendendo per il glass? mi prende per il vetro questo? ahhh così va meglio però devasta ok per i tante di quella in corsa che l'ultima in corsa dei secoli forever ti deve proprio passare le botte il bambino è ancora vivo devo ammetterlo ah ha perso il casco ok mi sembra un buon trade ok ok eh non vale pensavo fosse solido pezzi di mad ok ok i non ha maschistato protection vistodine she e lee junge pissa flacciend glass ok ok questo è un glassy level ok lo sono tutti che io sono pro nei glassy level ok insomma c'è prova del montaggio dei sessantak ok io sono pro europe ok Non quanto il mio braccio Ok, ora è solo una questione di equilibrio ragazzi Usate il labirinto dei fapper che avete nell'orecchio Quello pieno di roba bianca Ok, questo diventerà difficile Use your power Maybe not Use more of your power Ok, ok Con calma Grassfall, oh shit Porco demonio No, no, fammi vincere Ah Sembrava strano Questo è quello in cui sono particolarmente bravo per chi non se lo ricordasse Non esiste Ok, ok, ok E E E E Vai, 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 vai No, no Ah, finalmente Aspetta Va bene, è un'operazione abituale questa Pettinamento Cioè, pettinamento, spettinamento Ah Così va molto meglio Exit to the menu Sector Sector Livello 2 Che ha già fa? Ha già spacco il vetro Ok Povero bambino Ok, bambino È tutta una questione di Sopravvivenza Se tu sopravvivi Io sopravvivi Oddio, ho una freccia in culo Se tu sopravvivi È colpa di Vrent E Anyway, let's go on Ehm, survival Very hard Mi piacciono i survival Aggrappati Andiamo con quelle cazzo di prosciutti Con quel cazzo di prosciutti Che ti trovi al posto delle mani Se non rimani aggrappata Oddio il bambino Oddio se lo mangia Non mangiarti il bambino Oddio Oddio, ma c'è donna di Babbo Natale E lo sapevo Ora questa mangia Non ho più la testa È talmente obesa questa Che riuscirebbe a Tipo Reincarnarsi In una In una bocca Cioè nemmeno un corpo Solo una bocca E mangiare tutta la carne Che c'era dentro Proprio cannibalismo Portami via Tipo deve Evoca Evoca Il drago delle nove sfere Del drago Shenron Come cazzo si chiama Fammi diventare una bocca cannibale E mangia tutto Perché lei può Perché lei è speciale Tanto, tanto Maybe Forse 1-1 Ehm Short È da tanto che non commettiamo Una hard donation 1-1 Ok la palla ci distrugge In 30.000 pezzi Fine No, no Il cuore scende Scende Viene pompato via Da uno speed Che viene scaraventato Da un altro Scende Mina La mina Attenzione Donation No Scherza Ecco, prima mi stavo parlando del cannibalismo Questo è un esempio di cannibalismo Quando ad esempio in passato Avete visto il film 10.000 a.C. È un film molto carino Molto carino Molto carino perché È anche abbastanza molto shallow Perché non devi ascoltare un cazzo Perché non capisci niente di quello che dicono Perché parlano le lingue di 10.000 anni fa Anzi 12.000 anni fa E ci sono i sottotitoli Poi non so come cazzo hanno fatto A capire i sottotitoli Cioè se sono lingue morte Se sono morti anche Non lo so Però è figo Perché a un certo punto Spoiler Montagna Cioè montagna Piramide Tipo quelle last tech E pum pum Ecco Cioè Altro che Yotobi Chi è che ti fa le recensioni così Dei film Cioè Cioè Yotobi Cioè Yotobi mi fa proprio Una pippa a due mani Cioè Davvero Cioè Cioè No surviving Che si può anche Tradurre in 100% Impossible Anzi 100% Pata Vi ricordate dai scorsi episodi Pata 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 Tata Pata That was so epic WWE WrestleMania No To 619 619 619 619 UAH Mi ho mancato muah Alto che 619 Io si che sono un pro Vai Vi Sto Ripedi Guerrero che si la faceva sempre con Mr. Mistero misteri come grazie si chiama kill jb ma perchè tutte queste cose cioè povero giustico che ammazzamolo boom boom L'affanculo justin bm è ammazzato I'm necking all I'm necking all Just tell the world that I just crashed my neck, but I don't care Ok, basta Hmm arrow harpoon fun, ok Guarda che posizione Ok in queste situazioni bisogna usare un pg che Che si che abbia queste caratteristiche deve essere resistente Potente Piccolo in modo che possa essere facilmente missato e deve essere soprattutto veloce quindi dette queste quattro considerazione Considerazioni sceglieremo il pogo Bene la quinta considerazione è che le prime quattro non sono applicabili a questo personaggio Prendiamo il tank Prendiamo il tank I'm gonna tank the shit out of you because I don't give a shit I'm gonna tiii Oddio mi automacero Che figata Mi sono automacerato l'intestino Calma Dunque Dunque Come vi dicevo prima ora mi sa che andrò a pre-registrare un bordello di video Perché altrimenti Poi voi non avete video E poi voi me la prendete con me E poi voi mi Mi trattate male Io non ho diritti Lotta anche tu Per i diritti degli youtubers Per i diritti 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 Per i diritti